Oggi vengo svegliato perché ciaone Avete presente che in genere la mattina faccio prima qualcosa e poi è arrivata l'ora di pranzo e mangio Avete presente? No? Si Bene, basta, oggi panciolle Oggi pranzo, basta, solo pranzo Spaghetti Di nuovo Comodoro Ancora Basilico Pure quello Perché non ci piacciono gli spaghetti con le melanzane No, merandane Che cos'è? Broccoli Broccoli Perché a noi non ci piacciono gli spaghetti con i broccoli Amici di spinaci Ancora gli amici di spinaci ci sono Quanti amici hanno questi spinaci Enel mentre parte il quizone da un milione di moffe Dritto e rovescio Dritto e rovescio Voglio fare un quiz Vi piace più la sprite classica o quella al limone Come questa qui Scegliete Classica O limone Potete cliccare perché lo renderò interattivo il comando E invece no Ti ho fregato Vedo che c'è fragola in live su Twitch E me lo guardo mangiandomelo Buono Vai, 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 vai Vai, vai Bene Giusto Ok Ci stava, ci stava Il drago, il drago Subito, subito Senza pensarci Io non penso con testi No, non con testi Non fate più il drago Veloci, veloci Però vi vedono Quindi sbrigatevi Ho passato l'intero pomeriggio a fare riprese E a montare il video Facendomi venire il mal di testa E perciò ho bisogno di nutrimento Fame, ho fame Toriso, questo Ovo Amici di spitazze Guardiamo se potrebbe essere le stesse cose Ho sbaglio Perché amici di spitazze È molto buono Ogni tanto potremmo invitare anche gli amici delle cipolle Che ne so Proviamo sto coso Proviamo sto coso Sembra una patatina Sembra Nonostante oggi avessi programmato di fare qualcosa di produttivo Non ci sono riuscito se non dopo aver pubblicato il video In tarda notte E quindi vai di corsetta presonno In un'ora ho percorso circa 6 km Avrei solo bisogno di altre 1600 ore circa per arrivare in Italia dal Giappone Come mostrato vi da questo effetto strabiliante Non mi basta, devo essere più produttivo Studiamo un po' di Deutsch Bene, queste sono le parole usate nell'esercizio di oggi Vediamo che ora si sono What the f... Queste sono le parole usate nell'esercizio di oggi E quindi... Grazie a tutti